Musica Allora Elisabetta, ti va di uscire? Oh cielo, aspettavo che me lo chiedessi. Andiamo? Ma certo! Sei così fuori luogo in questo momento Elisabetta. Eh, lo so, è strano che succeda, vero? Moiko? Devo vestirmi in qualche altro modo, eh? Che cosa? Cosa ho appena detto? Madonna mia! No, vai tranquilla, sei con me. Vai a cambiarti di vestito? Ah! Io ancora che ci credo, quello che fa. È diventata il mio stand. Mentre ci muoviamo noi, si muove anche lei. Perché finiamo sempre da qualche parte a mangiare io e te? Da un baluardo del commercio. No, dai! Quanti soldi gli dai a sto giro, per favore? No, dai! Non riempirla di monetine. Hai? Qui vendono solamente pane, sorella. Vendono il minimo indispensabile qui. Eh, dovevi venire a pranzo, adesso siamo dopo scuola. Eh, lo so. Quando non hai alternative è una buona soluzione, sì. Me ne dia uno. Quale vuole? Ah, non compra sto giro. Qual è il tuo preferito? Ah, così? Le ha lasciato credere poi. Via, via, andiamoce. La mia aula? Ma certo. Alla fine, tutto questo secondo me è solo per conoscere meglio noi. Neanche per vedere proprio la scuola. Fidati che no, cioè, non c'è armonia subito dopo l'ora di ginnastica. C'è solo un leggero odore di piedi. Eh, certo. No, si chiama la cattedra, non il podio. Dai. Cosa ci insegno, maestra? La gente che si agita. Qual è il più delizioso? Beh, boh, dipende. Allora dirò il megadietetico. Che culo. Ah, fantastico. Ma vuoi vedere che entrambe erano giuste? E ci regalava comunque un premio? Ci dava quello che sceglievamo? Beh, il megadietetico tra l'altro è quello migliore dei due, quindi meglio. Andiamo. Scegli la prossima aula. Quella d'arte, eh? Sembra Ares, non è vero? Non è proprio così, Elisabetta. Non è... No. No. Perché ne dubito? No, beh, forse no, dai. Se conosce una canzone vuol dire che... La conosce suonare anche. Vorrei sapere che cosa ha detto. Forza, canta anche tu. Torque! Madonna mia, pensavo ci si sarebbe schiantata contro. Bravo, Elisabetta. A me non ci avrei mai creduto, eh. Pensavo ci sarebbe, pam, contro il palo. Eh, è un bel mondo, eh. Quando non cerca di essere distrutto da qualcuno. Tutte le volte che vuoi. Perché volevi conoscere meglio me? Vero? Dai, spieghiamo la parola e tue. Sollevata? Appagata? Ok. Che cosa ho detto, madonna mia? Perché sono un tipo interessante? Se ti soddisfa. Grazie a te della compagnia, allora, Elisabetta. Andiamo. Ho fatto ritorno alla stanza di veluto con Elisabetta. Ti ringrazio per prima. Ora, dunque, come posso esserti d'aiuto? Grazie per avermi mostrato il liceo Ghegokuan. Sto cominciando a capire perché stare lì ha sollevato il morale. Il Ghegokuan non è solo parte del tuo mondo. È un luogo nel quale tutti i giorni passi gran parte del tuo tempo. È un luogo colmo della tua presenza. Ecco perché io... Forse voleva solamente avere un momento totalmente per noi, noi due assieme. Cioè voleva starci talmente vicino che voleva sentirsi parte di quello che facciamo tutto il tempo. Lasciamo perdere per il momento. C'è ancora altro che devo considerare. Ecco la tua ricompensa. Marchio stregato, eh? Non male, sarebbe stato buono se Fuka funzionasse questa roba, ma non è così. Andiamo avanti col nostro amicone. Oh, ma guarda, è proprio come Phoenix Kuhn. Tipismo perfetto, vuoi andare a mangiare qualcosa? Sento lo stomaco che prende per tende attenzioni. O sei tu che vuoi dare attenzioni al tuo cibo, eh? Andiamo. Eccellente, collega gourmet. Cosa desideri oggi? Riso, panini o magari un noodles? Conosco il posto giusto. Un all you can eat? Perché ne dubito altamente, mio caro? Ma porca. Ma chi sei tu, dai? Io sono sicuro che lui sta esagerando e che questo voglia una roba semplicissima. Sarà una stronzata e che lui sta facendo qualche minchiata. Ancchiata. Dai, dimmi qual è il motivo per cui vuoi questo ragazzino. Ah. Boh, ovviamente dobbiamo secondarlo. Però, cioè... La vera domanda è ma che cazzo vuoi? Ma va. Perché questo mi sembra tanto un mafioso? Stai esagerando e non calcare la mano. Certo! Come no? Sumiezzo sembra fidarsi di me con tutto se stesso. E ce n'è di se stesso lì da fidarsi, mamma mia. Però è davvero un confidante che va talmente veloce che boh... Non esagerare, per favore. Ah, è ok. Il fratello è crepato, ottimo. Anche a me, credimi. Beh, l'hai scelto tu il corso privato da questo, eh. In un culto? ... Oh, adesso alza le mani. Guarda, dopo aver passato dieci serate con Tanaka, fidati che fregarmi non mi può fregare nessuno. Fidati che... Ho proprio conosciuto il maestro della fregatura, quindi vai tranquillo. Sì, sì, ciao, ciao. Che culto. Nozomi, mi devi raccontare qualcosa? Guarda, preferirei finire qua la giornata, se non ti dispiace. Dopo aver mangiato sono tornato al dormitorio. Beh, dopo una situazione del genere credo che durante la mangiata qualcuno avrebbe dovuto parlare di quello che è successo. C'è una scatola sul bancone, chissà che cos'è. Vediamo. Secondo me è inferiore, però ci ho voluto provare col pelapatate. Ok, ri... Ecco. Ah, finalmente i cinque giorni infernali sono finiti. Ehi, vuoi andare al caro vecchio tartaro stanotte? Ci penserò. Sì. Ok, è che voglio togliermi gli esami dalla testa. Come vuoi. Quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto. Ok. Ah, tanto sotto. Che sfortuna. Vabbè, ci ho voluto sperare. Ci ho voluto provare più che altro. E i dolcetti e la pera, però ripristi al... Madonna mia. Solo questo è valsa la spesa, onestamente. Solo quello. Uh, gli smeraldi. A cosa mi servivano gli smeraldi? Il quinto numero. Ok, ce ne servono cinque. Ma sai che quasi, quasi. Solo giusto per avere già un bel pezzo buono per Aegis, io lo comprerei. Eccolo qua. Riduce danni fisici. Beh, dai, ha un bel boost. Qua sia Sanada che Jumpele abbiamo già fatti alle loro attività, direi di andare al computer. Quasi, quasi faccio il forum di Whatodai così ce lo togliamo. Che tanto questo, se non sbaglio, esatto. Era una nuova bibita da qualche parte. Che cosa c'è oggi alla televendita? Oggi vi offriamo l'assortimento di cibi istantanei. Troppo occupati per cucinare un pasto completo, magari volete qualcosa di facile e veloce. Allora che ne dite di curry istantaneo? Addirittura cinque. Imperdibili in qualsiasi dispensa. SP, beh, potrebbe essere una soluzione. Ci aggiungo anche ramen istantaneo, indovinate quanti? Dieci. Beh, per quella cifra ci sto. Anche se mi da solo cinque curry, guarda, non è male. Questo potrebbe essere il distributore automatico? Ok, sì. Si possono comprare bevande che dico di essere esaurite. Ora puoi comprare altre bevande da distributore automatici di fronte alla stazione. Posso comprare altra roba? Aha. Dieci SP a tutti gli alleati? E beh. E acqua della felicità a tutti gli alleati cinque? Beh, va bene. Come stiamo oggi? Ma certo, stiamo con te. Grazie. Sei davvero gentile. Ah, wow. Beh, non è una cosa buona. Vabbè. Minchia, che vita felice farà. Direi che no, dormire serve sempre. Devi sempre ascoltarlo il tuo corpo, fra. Ti chiedo perdono perché ti sto facendo preoccupare. Beh. Beh, ti capisco. Sì. La butto lì? La butto lì, la sua stella, il suo sole, eh? Lui sta cercando l'ispirazione per qualcosa. Vuole fare qualcosa prima di morire. Per quello spera anche di vederci ogni volta. Perché a modo suo lo stiamo aiutando. Ma no. La vita è già tanto dura. Beh, pensa all'inizio quando mi sfanculavi. Questo è tempo prezioso. Beh, mi fa piacere. Mi sorride debolmente. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Beh, alla fine stiamo facendo una cosa carina. Per uno che sta condividendo il nostro... Non il nostro stesso malessere, ma la stessa situazione. Beh, mancano altre cinque volte, quindi sì. Ho salutato Kamiki e sono tornato al dormitorio. Oh, ma Koromaru che è sempre lì, che aspetta che lo portiamo fuori? Che, per carità, sì. Però, Cicino, sarebbe meglio se ti facessi o spazzolare o che guardassimo la TV. Ma... Junpei, per caso, è di sopra che legge? No, è di sopra che magna. Vabbè, allora andiamo a cucinare con Amada. Ho fatto un po' di studio sui chicchi di caffè. Volevo sperimentare un paio di cose. Sei libero adesso? Ma certo. Ti prometto che stavolta lo preparerò correttamente. Andiamo allora. Ok, iniziamo subito. Beh, dai, mi fa piacere. Ah, bravo. Oh, complimenti. Hai fatto un ottimo lavoro. Eh, beh, certo. Potevi condividerlo con gli altri, eh. Dai, assaggiamo. Non ti è piaciuto? Perché l'hai lavorato con attenzione, tra l'altro. Era lo stesso che beveva tua madre. Caffè decente. Finisco di pulire io. Lo vediamo domani mattina che tremola per il troppo caffè. Senpai, ho bevuto altri 27 caffè. Però il 26esimo non era male. Ecco, ti pareva. E oggi non va a letto. Ah, finalmente i risultati dell'esame, eh. Dai, andiamo a vedere chi è il primo. Ho il voto più alto della classe. Mi guardano tutti con rispetto. Parampamparam. Parampamparam. Eh, ma ormai siamo bellissimi. Ma a me serve il sapere. Non me ne frega niente. Mitsuru mi aveva promesso un regalo. Ebbene, questa volta deve essere un super regalo. E ti pareva. Poi arrotondiamo così e la risposta è x uguale 1. Hm? Non è così? Ah, capisco. Questo è diventato 11, quindi x uguale 2. Un attimo, cosa? Ok, come compito? Dovete trovare la soluzione. Wow. Comunque non è stato divertente. I numeri sono proprio interessanti. Persino con un problema difficile come questo. Una volta risolto diventa un concetto semplice. Tutta la nostra realtà è fatta di numeri. La civiltà deve la sua stessa esistenza alla matematica. Bene, Starkoon. Sembra un fan della matematica. Ti faccio una domanda. Noi usiamo molto il numero 0. Ma sai da dove viene? Dall'India. Proprio così? Allora sei un fan della matematica? Non è affascinante che qualcuno un giorno sia svegliato e abbia ideato il concetto del vuoto? E poi, grazie alla nascita dello 0, tutte le scienze matematiche fecero un enorme balzo in avanti. Ah, com'è bello e strabiliante tutto questo. La matematica è magnifica. Mi chiedevo. Avresti del tempo? Torniamo assieme? Non penso che aumenterà il nostro legame. A che punto siamo con Odagiri? Potremmo aumentarlo. Roba nuova qui vedo, eh? Beh, ha solo una debolezza. Non è neanche terribile, sai? Andiamo da Odagiri oggi. Ehi, piccolina. Come mai? No, perché? Qualcosa non va? La mia teoria potrebbe essere giusta, una delle due. O è stato lui a fumare, o è uno degli insegnanti e non vogliono che si scopra. Porca misera. È successo qualcosa? Meglio andare in sala docenti. Vieni anche tu? No. No, è anche peggio. Voglio rincolpare qualcuno che non c'entra. Pezzi di merda a me? A me volete mettere in mezzo? E quindi? Pezzi di merda! Che figli della merda, sti professori! Siete proprio dei figli di troia! Sì, e vorrei sapere perché... Cioè, non perché tu mi hai difeso, ma perché loro vogliono incolpare me. Non sono stato certo io. E questo mi piace. Cioè, lui si fida di noi, punto. Ma guarda, sta scuola è un dubbio continuo. Grande, Fra. Sono contento di aver passato il tempo con te allora oggi. Ma che pezzo di merda quel... Cioè, voglio sapere chi è. Un mezzo dubbio ce l'ho, il solito lì che sta facendo casini. Però cacchio. Cioè, non è vero, ma perché non è vero. Sono una malattia, eh. Ciao. No, adesso entriamo nella sala docenti. Prendiamo una biro e lo accolteliamo al collo. Tanto che ci frega, stiamo per morire. Oh, salve. Gli esami sono terminati, giusto? Se decidi di andare nel tartaro, voglio venire anch'io. Prometto di fare il massimo. Combatterò anche per lui. Bravo ragazzo. Però, no, non entriamo oggi. Perché qualcuno vuole guardare la tv. È vero che tu vuoi guardare la tv, piccoletto. È sì che vuoi guardare la tv tu. Aumenterà il mio sapere, ma l'aumenterà per davvero? Ne dubito altamente. Andiamo a guardarci la tv. È il solito programma sugli animali. Oggi è l'ultimo giorno dello speciale sui lupi. Capo, ti piace? A me piace tanto quello. Coromaro sembra empatizzare con il capo dei lupi per proteggere il branco. Mi lancia uno sguardo di fiera determinazione. Ti proteggerò io, capo. Vuoi essere il leader? Cosa? No, no, no. Ora Coromaro è ancora più concentrato sul capo branco. Vedi lui. Lui è bravo. Quello sei tu. Io interpreto il ca... Sono peggio di Aegis ormai. Rispetto a prima lo sguardo di Coromaro sembra diverso. È come se avesse assorbito il senso di orgoglio del capo branco. Segugio dell'Ade. Auto su Kunda. Inizio battaglia e diminuisce la precisione e l'illusione di un nemico. Vuoi vedere che al massimo... La diminuisce a tutto quanto il gruppo di nemici? Sì, ma non è sto grande potenziamento. Cioè è buono, ma... Sono cattivo. Non abbiamo ancora finito. Lo so, lo so. Sono cattivo. Osservare la vita selvaggia mi ha aumentato il sapere. Ne dubito altamente ormai, guarda. Non ci... Non ci spero neanche più. Ci deve essere qualcosa che me lo sta bloccando. Perché non è possibile. Non è possibile che tutti i punti che abbiamo ottenuto non mi fanno aumentare il sapere. Ehi, che succede? Ehi, che succede? Ehi, che succede? Come hai fatto, Fuuka? Ehi, che succede. Ehi, che succede? Ehi? Sembrava un bravo ragazzo. Sembrava un bravo ragazzo. Che pensa quando finirà l'anno? Che pensa quando finirà l'anno? Tu ci riesci sempre. Se ne va? Eh, come? Se ne va? Ma come? Se ne va? Ah, madonna mia, ma poverina Fuka, sta quasi, si ammazza ora, quello là è crepato, questa se ne va, ma povera, ma povera crista. Eh, esatto, ma sei cretina anche tu, scusami, perché almeno passavate più tempo assieme di qualità, e beh, immagino, mi spiace, e beh, immagino, mi spiace, mi spiace, se beh, no, avevi delle amiche, però diciamo che non sono finite benissimo, micchia, dopo oggi però altro che allegra. Non c'è bisogno che me lo dici. Eh esatto parlate di qualcosa un po' più carino Ma da quando ti ho conosciuta? Eh mi sa di no Eh ma dai ma le dice anche di non venire a salutarti Eh esatto Sono migliorata come persona non sarò più una chiaro E ora si evolverà la sua persona Eh esatto Voglio aiutare i miei amici E infatti questi sono i comportamenti che a me non piacciono Mai Beh è il momento di pensarci allora Non penso che le si odi ma penso che non sappia realmente nulla di se stessa Neanche un abbraccio? Madonna mia Che tristezza Chi è? Adesso si mette a piange Madonna mia voleva andarsene nel modo meno tragico possibile sta ragazza Non voleva piangerle davanti E ora si evolve la sua persona Ma invece? Ma invece? Dove ho sempre una domanda Che mi fa Mi ha sempre fatto Mi sono molto felice E io 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 Vediamo come si evolve Carina Non mi dispiace perché finalmente ha aperto gli occhi Sembra quasi un angelo di Evangelion O se non altro anche come sono disposti gli occhi Un demone di Demon Slayer A modo su giunone A modo su mi piace di più quella di Rize Quella di Fuka si è carina Però Rize un po' di più La sua teorgia diventa Conferisce un effetto positivo casuale Ok ma non era la stessa roba di prima Forse è migliorato non lo so Ma scusa non è la stessa roba Beh no era sempre qua all'inizio E ora Junpei Non so cosa ti stai parlando ma brava No ma ti capiamo Eccolo Ancora Koromaru c'è Ha senso andarci D'accordo andiamo da Koromaru Allora piccoletto Ti a posto? Salve signora Eh lo so sono bello Sono bello grazie Regalino Ma dai Grazie signora avevo fame Ah ok Meno male Grazie La donna ha lasciato dei takoyaki E se n'è andata Madonna mia Maiale Ehi E dai uno E' il cane a randaggio Che ha inseguito quel ragazzino L'altro giorno Sembra messo male Poverino Beh randaggio mica tanto Sembra affamato Oh poverino Ma scusami randaggio non è Perché c'ha il collare Grazie Avevo fame Grazie Eh? Ora che lo guardo meglio Vedo Allora vedi che non sono un coglione Proviamo a parlare con la gente Hai ragione Chiamo la polizia Ho deciso di portare il cane a randaggio alla stazione Quindi l'hanno abbandonato? Ehi Si fa di tutto no? E' il destino nostro Che ti devo dire? Eh beh Ha un compito importantissimo D'altronde Quindi Secondo me l'hanno abbandonato Dai dammi qualcosa di concreto Voglio saperne Che dice capo? Ah Oh no Chiedo scusa allora E cosa accadrà al cane? Meno male Poverino Eh eh Poverini Grazie Meno male Meno male che qualcuno Se ne accorge almeno Sì signore Oh si era attristato Coromaru Coromaru sembra triste Starà pensando a quel cane oppure alle persone ferite Siamo gli unici che possono cambiare le cose Devo fare qualcosa Facciamo tutto il possibile Hai ragione capo Lo farò sacerdote Ci penso io Sento la grande determinazione di Coromaru E ha aumentato il mio coraggio Guarda E' il meno dei miei problemi Io e Coromaru siamo tornati al dormitorio Vabbè dai ci sta Ci sta La scatola sul bancone 5 carry 10 ramen I ramen Non mi aspetto nulla di che Bentornato Ah finalmente vuoi proseguire la tua serie Ramen istantaneo 100 Beh in realtà non è neanche terribile sai Non riesco a smettere di pensare Come è finita l'ultima puntata Per cui ho recuperato il DVD successivo Che ne dici Starcoon Ti va di continuare a divorare questa serie Sugli zombie con me Sì perché è da tantissimo Che non la proseguiamo Bene allora cominciamo Basta che non salti in aria E mi salti addosso eh Perdona e dimentica Anche se in realtà Non perdonare e non dimenticare Questa è la mia vera idea Io non dimentico E molto spesso non perdono Non sono rancoroso Sono solamente una persona che Mette i puntini Nei punti giusti Dobbiamo prendere un altro DVD allora Però cavolo effettivamente Abbiamo fatto un'attività con lei Magari abbiamo recuperato Abbastanza punti Per non dover uscire Un'altra volta Oh magari ci è andata di culo Questa serata eh Assieme o separati No mi dispiace Sono già fidanzato Ah finalmente Elisabetta Dimmi pure Quante persone sono scomparse oggi Eh lo so lo so Due persone Una mia conoscenza eh Ok l'altra volta era Bunkichi Chi potrebbe essere a sto giro Un'altra mia conoscenza Qualcuno che conosco sembra essersi perso nel tartaro Se non dovessi salvarlo le conseguenze sarebbero irreversibili Eh ma se è come Bunkichi Può nel senso senza cattiveria Può anche scomparire che ormai è già andata Siamo già a metà ottobre Due settimane della battaglia finale Sono successe un sacco di cose Così in fretta Ma mi hanno fatto capire Che sono felice di essere stata accolta da tutti in squadra Grazie Starcoon È bello averti conosciuta Sembra Ciao Addio Oh ehm Non pensavo che avresti detto una cosa del genere Ma per me vuol dire tanto Grazie Diamo il massimo della battaglia finale Che non sarà la finale Sappiamo tutti e due che non è così Ragazzi tutto quello studio mi è distrutta E credo anche a te Dai possiamo esserne orgogliosi Oh a proposito Torni a casa da solo Ti accompagno Vediamo Non è pronto Peccato non è bastata E allora scusami Vado a vedere prima chi è disponibile Sai che quasi quasi andrei avanti con Odaghiri Devo anche andare da quello dell'arte Porca miseria Vediamo Chi è scomparso oggi? Maiko No Peccolina Va bene che ormai abbiamo finito con lei però Il padre ha denunciato la scomparsa E' sparita mentre lui dormiva Eh ma non era con la madre Vediamo Se Odaghiri va avanti Proseguiamo con lui Sì Perfetto Voglio vedere cosa succede No più che altro sono curioso del Professore bastardo Che voleva Incastrarci Per nessuna ragione poi Cioè Che motivo aveva? Siamo qui per quello Vuoi fare a botte? Dimmi pure Dimmi pure Meglio così ascolto Beh però l'hai capito almeno Non è certo colpa tua Non è certo colpa tua puntare in alto Perché sono una brava persona Lo so Lo so E non puoi costringere qualcuno a dare la colpa a un'altra persona Grazie a te Odaghiri sembra davvero gratto Sento che la nostra amicizia sta crescendo E speriamo di concluderla la prossima volta allora Siamo al penultimo punto Ne farei una brutta figura No Penserebbero tutti che sei Un cuore d'oro Ciao Ho salutato Odaghiri Sono tornato al dormitorio Che si dice coso Ultimamente non c'è stato solo il problema dei perduti Ma resta soltanto un'ombra Dopo averla distrutta sarà tutto finito Forza Diamoci dentro Assolutamente Già E ridiamo tutti un motivo per sorridere O qualche altra frase ad effetto simile Ma La tipa che è ancora là In ospedale Non ne parliamo più D'accordo Stasera computer Guarda lo faccio solo per curiosità Maestro del part time Insegna l'abilità per il servizio clienti La contabilità e il rifornimento merci Migliora le tue capacità Inizia con una promozione Poi diventa il miliardario Compagno in una serie di istruzioni Di facile comprensione Immagino che cagata Ho finito ad imparare varie abilità utili Per il posto di lavoro Sento di poter applicare queste conoscenze Il mio lavoro part time Quindi riceverai più denaro Capiamoci Cioè l'ho fatto giusto per farlo Ma non ci serve realmente più a nulla A meno che proprio non finiamo Di fare tutti quanti confident Non ci rimane più nulla da fare le sere Può capitare Confrontate i nomi usati per i mesi in Giappone e in inglese Quest'ultimo fa una grande confusione Octobre è il decimo Su via Conoscete tutti Giulio Cesare no? Beh non è solo colpa sua Se i nomi dei mesi in inglese sono sfasati Sapevate che la parola Giulia è origine proprio dal suo nome? Nel corso della storia sono stati usati in questo modo i nomi dei molte persone divinità E' incredibile come una sola persona possa influenzare un'intera lingua Ecco una domanda Phoenix Secondo una teoria Quale dea romana prende il nome dal mese di aprile? Venere Sì esatto Questa era difficile Secondo alcuni aprile era inizialmente chiamato Aprilis In onore di Aphrodite Il nome greco della dea venere Alcuni pensano che possa essere derivato dal verbo latino che significa aprire Infatti aprile è l'inizio della stagione in cui fiori e piante cominciano ad aprirsi Io però preferisco quelle parole con un'etimologia un po' più romantica Ecco un altro esempio Allora abbiamo i raga e nozomi disponibili Va bene andiamo con i raga Allora Oh Starkoon come sono nati i tuoi esami? Comunque ora abbiamo finito e il club d'arte può tornare più attivo Oh giusto io sto andando al club Tu che fai oggi? Sono qui per quello quindi Ottimo andiamo allora Per ora disegna quello che vuoi Se hai domande fammi sapere Il grattare delle matite riecheggia nell'ora d'arte Le ore sono volate mentre mi divertivo Beh vedo anzi intravedo il disegno di Fuka ed è molto bello Il nostro non sembra granché T'apposto Fuka Dopo tutto quello che è successo Sei la nostra cacchio di navigatrice Devi fare attenzione tu eh Eh lo so Non è chi lo dici Eh E raga stanno notando i dettagli dei sintomi di Fuka Oh no Oh no In che senso colpisce ancora Ah detective Conan Ah vuole fare il dottore allora Ah allora Ma di sicuro Le sole dà un colpetto qua Tutto passato Grazie dell'aiuto Vuoi giocare al dottore Eccolo Forse Forse magari no eh Effettivamente è un po' esagerato Orca butana Credo che Credo che raga Si stia interessando a me Sento che la nostra amicizia Stia crescendo Che persona bizzarra Ascolta la porto io in braccio dai Si sta facendo buio Senti Fuka Andiamo per favore Dai ti accompagno io Faccio attenzione Ah Koromaru vuole farsi spazzolare Dai Va bene Dai Vieni che ti spazzolo oggi Oh Che bello Grazie capo Grazie Sto prendendo la mano a spazzolare Koromaru Lo adoro Il pelo è lucente Più che mai Ah che bello Che bello capo Grazie Puoi spazzolare anche me Per favore Il mal di testa Mi è passato Onestamente Non ne ho idea È un segreto Eh esatto Giusto A proposito di privacy Le mie piante sul tetto Ma perché no Una stancia? Le mie piante sul tetto Spero non siano crepate Grazie capo Grazie Il pelo di Koromaru Che bello Ah il periodo Questa da parte del preside Incenso del potere Di terzo livello Grazie Dato che ho ottenuto Il consiglio studentesco Riprenderà le sue attività Ma va Mi scuso per il poco preavviso Ma se parteciperai All'incontro di oggi Potresti tornarmi utile D'accordo Andiamo Eccellente Eccellente Ti devo un favore Pensavo una presentazione Per sensibilizzare Sul consiglio studentesco Penserò io a parlare Tu dovresti solo darmi il supporto Così E' cambiato davvero Chissà di chi è il merito Eh lo so Sono bravo Niente male Complimenti Bravo ragazzo Questo è lo spirito giusto Sei ancora in tempo Vai tranquillo E' un regalo? Ah Beh dai Meglio di nulla E me lo regala Poi il professore ci vede Ah ce l'avevi tu l'accendino È pezzo di merda Ne farò tesoro Sei un clipper Poi tanto meglio Questi qua Cioè dai Chi li vuole ormai Accendino modesto Semplice Semplice È difficile che qualcuno Sarà come me Odagiri Sembra in imbarazzo Sento un legame Indissolubile tra me E Odagiri Chissà chi sei Chi è la persona massima Dell'imperatore Nanji Nanji Vavaru Che hai curato Beh in realtà Non è che c'è stata Sta grande interazione Fra me e lui Cioè Alla fine è lui Che ha fatto tutto Hai capito Dove ha fatto Eh Si è perreso pure Un cazzotto da uno Però Il massimo potere Di questa persona E questa persona Definitiva Livello 10 L'imperatore Odino Odino is good Odino is buono Beh quando arrivi a queste Conclusioni È una crescita importante Dove vuoi tu Sarebbe la prima volta Andiamo a mangiare Allora Sono tornato a casa Con Odagiri Che era di ottimo umore Buon per lui